che ci siamo quasi voilà, arrivati, salve a tutti salve a tutti guardate chi abbiamo oggi di qua abbiamo Gabriele Di Maggio, è una cosa che ho aspettato per giorni e giorni e settimane e settimane e finalmente abbiamo Gabriele con noi, quindi Gabriele grazie grazie a te per avermi invitato, grazie a te felicissimo di averti qui felicissimo di vederti per la prima volta, noi ci siamo visti adesso una mezz'oretta per chiacchierare, felicissimo perché ecco iniziano ad arrivare come dicevamo purtroppo non ci dà il nome, lo vedremo in itine, ci danno il buonasera ben arrivati a tutti quelli che sono arrivati in questo momento vogliamo intanto dare il nostro benvenuto che non è caloroso, de più o seguioso quasi a Gabriele e sapere da dove ci state guardando e ascoltando ci fa piacere proprio sapere in che parte d'Italia siete in questo momento che ci state ascoltando io ho contattato Gabriele io sono in Sardegna Gabriele dove sei? io Puglia, Puglia noi zona rossa zona rossa tutti zone rosse o quasi Gabriele la prima cosa che sento è di dirti che sono intanto salutiamo Sandro che ci scrive in questo momento ci sta scrivendo da Palermo diremo tutti quelli dove siamo quindi vedrete che saremo spalmati su tutta Italia Gabriele dici come ti senti oggi? beh prima hai detto che sei felicissimo altrettanto anch'io sono veramente felice anche se appunto sono abituato con le live come ne parlavamo anche prima però è sempre un'emozione perché è sempre un nuovo mondo che scopri venire in live quindi veramente è pazzesco e io ringrazio voi tutti voi te le persone in chat grazie veramente per per poi accogliermi in questo modo appunto come hai detto tu calorosa ma guarda tra l'altro c'è una mappugliese come Gabriele quindi vediamo che c'è qualcuno che scrive dalla Puglia Sicilia ah sì è un mio amico è un mio amico fantastico diamo il benvenuto a tutti qua c'è Claudio da Modena che ci saluta ciao ragazzi felicissimi di avervi qui con quello che io personalmente e non solo io considero un genio perché a volte bisogna essere Casteldu e Cagliari bisogna essere chiari su una cosa a volte bisogna riconoscere il talento distinguere il talento dal genio il talento potrebbe essere anche una persona che si è impegnata tanto tanto e ha fatto leva sulle sue capacità a mio parere Gabriele tu hai un tratto di enorme genialità che si vede già nel momento in cui iniziamo a parlare io già mentre parlavo con te mi sono sentito a mio agio perché dobbiamo dire la verità io ero in ansia perché ho detto a Gabriele Gabriele io mi sento in soggezione come di fronte al professore ma non perché tu mi metti in soggezione perché tanta è l'ammirazione che ho verso Gabriele che mi sento in soggezione mi piacerebbe Gabriele per rompere il ghiaccio e per tacermi mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' mentre ti salutano da tutta Italia un po' che ci parlasse di te vogliamo sapere qualcosa di te del Gabriele umano non super umano umano ok ok allora io come potete vedere anche dal nome sono scritto lì sono Gabriele Di Maggio e ho 13 anni quindi frequento la terza media e vengo dalla Puglia appunto e diciamo ho la mia più grande passione è il mondo della matematica e quella della fisica mi piace molto studiare però non solo ovviamente e e quindi ho aperto la cosa appunto che oggi mi ha portato qui ed è veramente una cosa bellissima sono esperienze bellissime che mi sta facendo fare è il mio canale YouTube appunto che ho aperto già ormai un anno fa proprio in questi giorni ha compiuto un anno il mio neocanale e e quindi in questo canale parlo di fisica matematica perché oltre a studiarle la mia più grande passione che mi aiuta molto nel anche nel migliorare la qualità di studio e lo spiegare che amo veramente tantissimo fare quindi coinvolgere anche gli altri ecco e non ci deve molte volte mi hanno contattato tantissime persone anche grazie e io quello che dico non ci deve essere appunto come dicevi prima tu un rapporto professore-alunno ma amici in un certo senso questo sicuramente ne sono onorato e ti preannuncio che già stanno arrivando come vedi a lato un sacco di domande e una è ciao ci saluta adesso vediamo chi è purtroppo non si vede ciao a voi Gabriele come fai a innamorarti della fisica non mi ispira spiegaci e facci innamorare aiuteresti molti che studiano ingegneria neanche a farlo apposta Gabriele che adesso ci racconterà di sé un metro l'ora neanche a farlo apposta diamo un piccolo assaggio di quello che faremo oggi oggi parleremo principalmente a parte parleremo di Gabriele appunto ragazzo mi veniva a dire uomo Gabriele umano e poi parleremo di quello che lui fa di come il suo cervello funziona che gli permette di arrivare a questi risultati che non è solo capire imparare appassionarsi e spiegare agli altri fantascienza gli stavo a di poco fa io a 13 anni giocavo che gli leggo primo secondo l'idea di innamorarsi che significa uno non si innamora di una cosa che lo o la spaventa e come dicevamo con Gabriele prima io mi spavento molto di fronte ai formuloni e alle cose difficili Gabriele no o meglio magari sì non lo so in qualche momento della sua vita mi raccontava e quindi vorremmo sapere poi anche come non farci spaventare ma Matteo subito dice sì ma partiamo da quello che è il tuo metodo di studio come fai intanto Gabriele io ti lascio la parola tu potrai parlare di tutto quello che vuoi di te e del tuo metodo di studio di come studi come approcci le materie iper difficili grazie allora grazie per avermi passato la parola cominciò magari partendo appunto dal fatto come mi sono innamorato hai detto una cosa molto vera non ti innamori di una cosa che ti spaventa ovviamente io per questa cosa della paura credo appunto sia una cosa più che naturale perché ognuno quando ha paura di un qualcosa perché non lo conosce e quando però si avvicina comincia a capirlo meglio certo molte volte succede con la matematica che non si capisce perché effettivamente sembra una materia molto diversa dal solito ci vuole tanta logica e cose del genere io credo che appunto molte volte i professori ne parlavamo anche prima partono parlando a raffica di tantissimi argomenti dando quasi per scontato che effettivamente l'argomento ti piaccia tu cominci a parlare e il ragazzo ti guarda non sa neanche che cosa sia la fisica questo è un po' quello che succede molte volte nei primi anni di liceo ed è un metodo secondo me molto sbagliato è ovvio che col parlare ti puoi avvicinare però lì deve essere molto bravo il professore a parlare molte volte i professori anche all'università soprattutto cominciano soprattutto all'università perché all'università la fisica è molto diversa cioè ti trovi appunto all'università quei formuloni di cui ne parlavamo parlavamo prima alla lavagna e quindi molti addirittura hanno conosciuto l'operazione che la lasciano perché pensavano che la fisica fosse magari quella cosa di cui si parla magari nei documentari e molte volte non è così che si capisce dici sì e poi si aggiunge anche la matematica anche all'università soprattutto quindi diciamo io mi sono io credo che un ruolo importante proprio fondamentale sia siano le biografie infatti io mi sono appassionato proprio in questo modo io come dicevo prima anche come ne parlavamo prima con Giovanni io io ero partito con la passione per la medicina e dalla medicina avevo scoperto chimica fisica e poi anche la storia del big bang all'elementare i primi anni che si studia come nasce l'universo ecco questa cosa dell'esplosione che mi aveva mi aveva proprio affascinato ecco e ho detto come è possibile l'esplosione e quindi dato questo poi ho visto un documentario una serie tv era proprio sulla vita di Einstein Genius si chiamava su National Geographic si trova questa serie quando ho visto quest'uomo scrivere con i capelli tutti lunghi disordinati non se ne fregava di nient'altro solamente lì tutto il tempo a scrivere e lì mi sono innamorato e ovviamente ognuno si può innamorare in modo diverso magari se a Pinco Palino dico di guardare la biografia di Einstein magari non gli piace Einstein ma ci sarà un altro fisico tipo Feynman per esempio era un fisico che è molto aperto con la gente ballava la samba festeggiava il carnevale di Rio questo per anche diciamo togliere via buttare via i pregiudizi che si hanno sul fisico sul genio che è come Leopardi che si mette Leopardi non era un fisico però si metteva a studiare in continuazione sette anni di studio matto e disperatissimo non è così assolutamente non è assolutamente ci sono ma lì è poi la tua anche mentalità di vita in un certo senso una persona che si richiude nello studio perché magari è una persona introversa ma non che tutti i fisici sono introversi è una cosa indipendente diciamo e quindi io credo il ruolo fondamentale siano le biografie perché molte volte ti immedesimi cioè non devi quella biografia di Einstein mi ha fatto vedere quanto fosse intelligente mi ha fatto vedere anche quanto fosse umano quante volte ha sbagliato lui la sua più grande teoria relatività generale l'ha trovata mentre era in un conflitto tra tantissimi altri matematici e tanti altri matematici lo superarono lo superarono all'inizio e lui fece anche tanti errori e un ragazzino di 26 anni gli fece notare che aveva sbagliato su un articolo quindi il fatto le biografie servono molto anche a a far a immedesimarsi non vedere più come un supereroe un superumano ma come una persona come tutte le altre perché effettivamente molte volte è così si sbaglia e questo quindi mi ha fatto capire che effettivamente anche io all'inizio assolutamente avevo quei pregiudizi non conoscevo mai la pena la fisica però tutti abbiamo quei pregiudizi il fisico il genio quello che fa fisica è un genio e quindi pensavo io non sono un genio e quindi non posso non posso farlo però poi ho visto Einstein Enrico Fermi e tanti altri e questo mi ha fatto capire che io posso diventare come non come magari però posso diventare un fisico ed è questa la cosa bella posso farcela e quindi le biografie credo che per quindi gettiamo le basi dobbiamo innamorarci siano fondamentali poi come dicevo prima ognuno si può si può innamorare di per esempio l'aspetto più pragmatico quindi l'ingegneria prima io amo le equazioni però c'è la gente a cui piace invece vedere e vabbè sì e mi hai raccontato tutto questo come lo applichiamo no e per questo ci sono la fisica è un mondo c'è fisica medica biofisica quindi quando parliamo di fisica non è che parliamo solamente delle equazioni del moto che si risolvono al liceo assolutamente no quelle sì come basi però poi puoi spaziare e questa è anche una cosa brutta del liceo che fanno vedere semplicemente la fisica come un problema da risolvere e se non risolvi quel problema ti mettono un voto brutto e poi la mamma ti sgrida e quindi è anche la paura di quello che poi non puoi ricevere la bicicletta o la playstation e quindi vedi tutto come l'obiettivo fine è ricevere la playstation o la bicicletta e non imparare veramente ma poi anche perché hai paura della mamma che ti sgrida del papà del brutto voto e così così e quindi tutte queste circostanze che nel mondo dello studio non ci dovrebbero secondo me assolutamente essere un parametro di valutazione ovviamente però non che ti perché quello succede molte volte a livello psicologico io credo che sia più che naturale ti auto influenzi in un certo senso e ti metti paura anche io ho avuto in un certo senso critici di autostima e questo notavo prima stavamo parlando del blocco io mi bloccavo mi bloccavo e dicevo aspetta devo ragionare devo togliermi questa crisi questo pensiero che mi blocca e dopo poi ricomincio a fare fisica e sono un tipo che poi se le porta le paranoie un giorno mi sono svegliato così senza pensare a questa crisi di autostima e ho fatto fisica liberamente cioè non avevo più paranoie non avevo più fisse e ho fatto fisica mi è venuto naturale questo significa che molte volte ce lo creiamo noi il blocco non che la fisica ci odia è noi che facciamo così sì sì ma guarda che questa cosa che hai detto queste cose che hai detto a me hanno colpito tantissimo la prima cosa che la passione se uno viene sostenuto nasce verso qualcosa non si sa bene verso cosa ma nasce e al momento in cui nasce può capitarti di avere un blocco come tu raccontavi no oddio cosa faccio non ce la faccio mi porto avanti le paranoie e tu hai detto in quel momento io utilizzando le non so le biografie sapendo che quelle persone che lo facevano erano esseri umani ho detto ma pure io sono essere umano quindi probabilmente ce la posso fare pure io e a quel punto sono passate paranoie guarda hai detto una cosa di un'importanza che guarda mai e tra l'altro mentre lo dicevi arrivavano i commenti delle persone a parte Elisa che ti ha fatto un complimento bellissimo il fatto proprio delle due doti l'empatia e la passione guarda che non ci ha messo la genialità la competenza empatia e passione esatto cioè tu trasmetti questo e sarai un meraviglioso insegnante che fa amare quello che fa gli alunni già lo stai facendo amare a noi figurati ai tuoi alunni sarà una cosa meravigliosa continuano i complimenti e mentre dicevi Lili ha scritto a scuola sarebbe quindi utile introdurre matematica e fisica con le lezioni di storia della disciplina con le biografie degli esponenti ma poi perché ci sono molte anche storie bellissime dietro alcune scoperte scientifiche che dicono wow cioè ci sono veramente fisici che si litigano tra di loro è molto molto interessante quindi assolutamente la storia della fisica della scienza è un passo molto importante da fare ecco la scienza con la storia ed è anche quello aiuta assolutamente infatti i miei primi libri sono stati quelli non è che io subito mi sono messo a studiare dal Landau che è uno dei libri più tosti oppure no io ho cominciato da libri soft e non c'erano divulgativi e poi una cosa molto importante quando cominci la spiegazione di segnini mentali secondo me tipo ho trovato dei bellissimi video di Brian Greene che tra l'altro è un fisico che mi ha fatto conoscere indirettamente ho letto un suo libro L'universo elegante la teoria delle stringhe che se Dio vuole è la cosa che mi piacerebbe più fare la teoria delle stringhe specializzarmi in quel campo e ci sono dei video divulgativi in cui sparla in inglese però diciamo della teoria delle stringhe ci sono questi disegni lui diciamo questi disegnini che sono stati fatti con editing del video fa vedere crea l'atomo poi prende il protone e qui dice e disegnini mentali secondo me in questo caso soprattutto anche in matematica quando studi alcune cose che io ci sono passato magari ti sembrano così astratte che dici non le riesco a toccare quando vedi magari alcuni disegnini mentali li riesci a toccare a analizzare come faceva proprio Brian Greene in quel video prendeva l'atomo lo spezzettava in tantissime parti esatto e quindi in quel modo vedi anche mentre parlavi Sandro diceva l'altro giorno riflettevo su questo quanto sarebbe bello studiare fisica e chimica da un punto di vista sia storico ma anche lui diceva nel rapporto che c'è tra le discipline quindi il collegamento non solo l'approfondimento della materia ma il collegamento tra per esempio matematica e fisica scusa matematica e chimica fisica e chimica ti chiede la tua opinione beh la chimica e la fisica sono troppo legate per molti rami dell'elettrotecnica dell'elettromagnetismo della termodinamica e un ramo che tra l'altro mi piacerebbe studiare è la chimica quantistica che è una sono principalmente dei metodi di matematica numerici quindi diciamo approssimazioni che si fanno per risolvere l'equazione di Schrödinger che è l'apice della meccanica quantistica non relativistica che praticamente ti fa capire in chimica quantistica informazioni sull'atomo cioè io se voglio studiare l'atomo uso questa equazione qui e poi molte volte soprattutto nei documentari quando la fanno comparire magari questa equazione o altre equazioni la fanno vedere in una maniera complicata che poi però quando la studi vedi che in realtà è molto meno complicata di quanto pensi infatti posso scriverle in una maniera semplicissima e che tutti potrebbero capire senza avere basi lì bisogna avere basi di algebra lineare fisica 1 e cose del genere che però posso anche non avere o sorvolare un pochino guarda mi ha fatto sorridere un commento fa sorridere capire quando dice aveva avuto qualche problema d'autostima la tua umiltà esemplare in effetti devo dire la verità qualche problema no però questo ci fa toccare con mano la tua biografia esatto e credo sia la parte più importante tipo quando vedi Sheldon Cooper in The Big Venture vedi io non posso diventare come lui è un alieno gli piace Star Trek arriva da qualche mondo e non aiuta quello secondo me anzi ti fa ancora più sentire stupido stupido certo invece quando tocchi appunto l'umiltà delle persone vedi che quindi sono delle persone normali ti senti più vicino quindi la presenza dell'idolo è importantissima secondo me in un certo senso è apprendimento imitativo uno dice lo posso fare anch'io se l'ha fatto lui anziché dire lui è oltre me lui è un essere umano come me quindi lo posso fare pure io e questo si unisce poi a Angelbox scrive Montessori per insegnare bisogna emozionare e suggerisco emozionarsi cioè di partire da un presupposto di piacere nella nel fare quello che si fa nel frattempo mentre andiamo avanti ovviamente come sai vedi per esempio io mi sono innamorato della storia di Majorana anche se un po' triste mio conterraneo ci scrive Sandro questa è una delle esperienze e lì ti scrive Gabriele hai una maturità straordinaria questo è un punto su cui vorrei approfondire secondo te che significa questa idea di maturità cioè il lavoro che tu stai facendo il modo in cui tu ti stai approcciando la fisica e la matematica ti sta cambiando? questa è una bellissima domanda però credo che la risposta sia no perché ovviamente diciamo cambia il modo di vedere il mondo secondo me e ti rendi anche più felice ovviamente perché se la cosa ti piace però a livello di personalità di maturità questo credo che non lo devo alla fisica e alla matematica infatti io prima ero prima degli undici anni ero una persona molto diversa un pochino palloso diciamo devo dire molto introverso e e questa cosa è sì assolutamente ero diversissimo e poi anzi diciamo dopo gli undici anni ho cominciato a cambiare modo di vedere io sono diventato e l'ho scoperto in un certo senso anche per esempio la fede perché io la fisica invece in un certo senso mi stavo allontanando ma non perché la fisica e la scienza sia in conflitto perché io pensavo che lo fosse anche questo è un altro pregiudizio e quindi questo non lo devo alla fisica secondo me poi ovviamente questo è il mio caso personale è successo a me ma perché non perché la fisica effettivamente sia da questo punto di vista sbagliata ma perché è stata la mia interpretazione all'inizio sbagliata poi è cambiato tutto e ora invece quindi questo cambiamento non lo devo alla fisica ma sono sono cresciuto diciamo alla crescita alla maturazione nel frattempo c'è Eleana che ci fa un bel complimento che salutiamo con grande affetto Eleana è una docente meravigliosa la conosci già probabilmente la vista sul mio canale e sempre Sandro ha scritto una cosa che poi adesso vado a ripescare un commento che ho visto poco fa quando la tua età ero come te preciso poi ho avuto la sfortuna di avere degli insegnanti che non hanno capito alcune cose di me e poco fa un'altra persona cioè è una ragazza una donna Rachele ha scritto hai detto che una volta ti sei svegliato e hai studiato fisica senza paura e paranoie siccome gli insegnanti perché questo è sottinteso siccome la scuola non aiuta come lo spiega ai ragazzini piccoli sta storia cioè che te li svegli e fallo anche questa è una bellissima domanda e diciamo se per me è stato molto difficile capirlo perché effettivamente io sono il tipo che si porta dietro tantissime paranoie molte volte ed è difficile toglierle dalla testa quel giorno è stata proprio la come posso dire mi sentivo libero effettivamente da queste paranoie mi sono messo e ho studiato ed è io credo che appunto sia questa la cosa importante dire ai ragazzi di togliersi queste paranoie della testa anche perché ci sono tantissimi modi per dirlo anche perché molte volte la scienza sembra controintuitiva ma in realtà è stata scoperta dall'uomo e come dicevamo prima è l'essere umano siamo tutti è stato scoperto da un altro umano questa cosa qui e l'umano per scoprire la scienza che secondo me è una cosa intrinseca della natura però ci ha messo la sua logica noi molte volte diciamo siamo troppo stupidi per fare matematica però magari poi siamo bravi non so in filosofia ci piace e ci piace ragionare e quegli stessi ragionamenti li applica la matematica tra l'altro per scoprire in un certo senso la matematica e la fisica qui si può creare un dibattito se la matematica sia una scoperta o un'invenzione però per scoprire diciamo la matematica l'uomo ha usato la sua logica e quindi lo puoi usare anche tu perché non è che è stato Dio che ci ha detto come Dio l'ha messa lì nella natura e ha lasciato che noi la scoprissimo e quindi secondo me proprio perché l'ha scoperto un altro uomo come noi e che possiamo farlo anche noi e quindi appunto sono la logica matematica e la logica mona secondo me sono due cose che viaggiano in due strade parallele che però sono uguali tra di loro in un certo senso cioè la logica applicata in matematica è perché è stata scoperta da un uomo e quindi posso 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 immedesimarmi anche io in quella logica ecco posso usarla anche io anche tu è una cosa completamente umana quindi questo è il punto di partenza che la persona immortale ci scrive Einstein diceva il genio è 99% impegno e 1% talento però c'è uno scoglio enorme da superare che è quello che dicevamo poco fa le paranoie che mi porto le paranoie che mi appioppano a scuola eccetera eccetera e infatti Matteo scrive se i professori ragionassero come Gabriele l'università funzionerebbe molto meglio per come la vedo io c'è troppa competizione e molte volte il rapporto studente professore non è dei migliori perché in realtà forse non è neanche esattamente paritario da lì però uno può impegnarsi Gabriele io questa cosa la devo dire con tutto il cuore e guarda se ci sono i genitori dietro perché se i genitori non suppriscono a queste capocciate che damo nei confronti delle materie piuttosto che rispetto ai professori non si va da nessuna parte lo hai infatti per te è stato così sì assolutamente devo tantissimo ai miei genitori perché anche un po' diciamo le caratteristiche principali del mio metodo di studio io sono io sono il tipo mi piace molto trascrivere perché quando trascrivo ecco quando diciamo immedesimarsi nella logica matematica io quando trascrivo è un modo per immedesimarmi è il testo che scrivo anche se l'ho preso da un altro libro me lo sento più mio infatti io poi non ho come punto di riferimento il libro ma i miei appunti sul libro è perché io sono il tipo non li rifaccio non li riscrivo gli appunti ma voglio scriverli già subito ordinati perché io quando leggo subito mi faccio uno schema mentale e che voglio farlo molto ordinato perché io lo chiamo linearizzazione in un certo senso linearizzare i concetti cioè molte volte sembra che fai dei passaggi stranissimi e tutti strani contorti invece no tutte delle rette che devono collegare gli step non qualcosa di strano rette quindi io parto dal primo step poi faccio quest'altra cosa e arrivo qui ma non usando chissà quale passaggio molte volte poi scopri che è in realtà molto semplice ecco potrebbe essere semplice può essere visto in maniera semplice qui arriviamo al tuo metodo mentre ho visto un paio di persone che ti chiedevano anche per esempio pensando ti chiedeva del tuo rapporto con dei passi biblici se ti va di rispondere riguardo a questa cosa perché io non l'ho notata questa cosa lo noto adesso quindi se noti che c'è diciamo molte volte è dentro di me perché molte volte io a me piace molto leggere i passi del Vangelo perché molte volte danno delle sì mi danno molte risposte molte volte in momenti confusi molto confusi perché ne ho tantissimi ne ho veramente tanti e quindi mi danno delle risposte alcuni li dico senza pensarci troppo altre volte invece mi piace proprio citarli perché ce ne sono alcuni che sembra proprio non lo so danno proprio delle verità pazzesche che mi piace mi piace sì mi piace sempre citare oltre la scienza verità universali oltre la scienza oltre la scienza sì perché è anche diciamo la scienza non sempre da verità assolute molte volte c'è diciamo quel scetticismo ma quello avviene molto in filosofia però nella scienza succede che poi deve essere tutto dimostrato con la parte sperimentale e Dio invece molte volte uno scienziato non crede perché Dio magari dice confonde mette in dubbio le mie equazioni ma in quel modo stai dicendo che Dio è un'altra scienza ma Dio non è un'altra scienza cioè io o credo nella scienza o credo in Dio Dio è tutto il re noi grazie alla scienza spieghiamo la natura l'universo Dio siamo Dio è noi noi grazie a Dio spieghiamo le persone le relazioni con le persone che la scienza può spiegare fino a un certo punto nel senso io so che l'amore è dovuto ad alcuni processi biochimici che avvengono nel mio cervello però non riuscirai mai a capire grazie alla scienza come si sente una persona quando si innamora per esempio certo è un atto di fede esatto è un dono anche un passo del Vangelo lo dice la parabola delle dieci vergini è un dono che non posso posso prendere un attimino il caricatore del computer perché si sta scaricando certo nel frattempo perdonatemi perdonatemi no no vai tranquillo nel frattempo io ho notato che c'è un commento di purtroppo non vedo chi che dice Gabriele aspetto una tua pubblicazione sono convinto che grazie a te riuscirò a studiare la fisica e la matematica con notevole soddisfazione mi auguro che allora io non so se grazie a Gabriele io credo di sì non mi non so se sarò in grado di mettermi di confrontarmi con la fisica e con la matematica con soddisfazione come Gabriele sicuramente lui mi dà una bentornato lui mi dà una ci dà una spinta a capire che quando è troppo sembra troppo qualcosa lo possiamo fare per uscire fuori da quello e quel qualcosa Gabriele nel frattempo è entrato anche una persona che ha il tuo stesso cognome non so se si chiama Tiziano di miaggio non so se siete parenti sì 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 perché ho detto mi sembra strano che proprio oggi è capitato uno con lo stesso cognome quello che succede scusate quello che succede adesso è che noi finalmente diciamo ok facciamo che abbiamo superato lo scoglio emotivo no iniziale o comunque scolastico quello che vuoi a quel punto però a fisica a matematica insomma sono comunque materie toste e quindi io ti chiedo Gabriele a quel punto il metodo che noi usiamo o meglio scusa i metodi di studio tu hai parlato di già hai detto qualcosina su la hai detto la linearizzazione la costruzione di dei procedimenti degli schemi hai detto adesso dici rispondendo anche alla domanda per esempio di Francesco per piacere potresti descrivere nel dettaglio il tuo metodo quindi questa linearizzazione che tu fai ti va di raccontarcela un po' assolutamente non vi dispiace magari se uso anche qualche esempio così per essere ancora più ma magari sì ecco allora diciamo molte volte devi essere anche fortunato a trovare i libri giusti perché mi sono imbattuto molte volte in libri un po' scritti male o che era ancora troppo spresto magari studiare in un certo senso per esempio il Landau che è un un testo molto tosto guardo lì su perché sta lì effettivamente che mi sta guardando ce l'hai che ti guarda sì lo apprezzo molto ora ma io l'avevo cominciato a studiare una volta senza sapere minimamente i concetti di fisica 1 e quello è un libro che devi studiare quando già le basi le hai infatti lo studiano magari molti dottorandi per ripassare ecco dato anche il fatto che la scuola che aveva fondato era morto tosta Lev Davidovich Landau e quindi allora quello che faccio io è la cosa che devo fare subito se no non mi sento non mi sento completo il mio metodo non lo sento completo e appena leggo io prima di tutto non leggo i libri di testo quelli delle materie scientifiche come dei romanzi cioè leggo tutto il primo paragrafo non ce la faccio proprio perché ma leggo un pezzetto e io lo ripeto cioè è come qui stiamo parlando del tensore metrico dico bene quindi il tensore metrico è questa cosa che ti serve a fare a calcolarti quest'altra cosa e ripeto quello che ho letto e molte volte quando il testo è molto pieno di equazioni prendo la lavagna e comincio a scrivere cioè leggo e dico bene qui abbiamo questa cosa qui infatti la cosa del canale youtube è nata proprio perché io mi registravo mi registravo mentre parlavo da solo mi registravo una volta che avevo letto tutto il paragrafo vediamo un po' e lo studio secondo me molte volte è veramente scusate la spiegazione è importantissima anche per migliorare lo studio perché diciamo parli ad alta voce e tramite la spiegazione puoi chiederti anche alcuni punti ed è una prova molto più efficace secondo me degli esercizi perché gli esercizi hanno un ruolo in più non è proprio se sai fare l'esercizio hai capito molte volte non è così gli esercizi ti fanno capire altre cose cioè ti fanno vedere un po' come posso dire la materia più concreta perché molte volte parli in maniera molto astratta gli esercizi ti servono a vedere casi particolari dimostrazioni e cose così invece il modo più efficace per capire se hai capito è spiegare e quella linearizzazione te ne accorgi se hai diciamo usato la linearizzazione te ne accorgi quando spieghi perché quando spieghi tu fai prima un io faccio così appunto fai prima un quadro generale cioè un quadro generale cosa facciamo oggi e quindi io devo capire tipo il paragrafo sul tensore metrico devo capire di cosa stiamo parlando del tensore metrico cosa serve il tensore metrico qui il tensore metrico serve a fare questa cosa qui quando lo uso in quale campo molte volte nel mondo delle materie scientifiche è importante individuare in quale campo stiamo la fisica la fisica è piena di biofisica fisica medica fisica delle particelle astrofisica fisica meccanica quantistica meccanica classica meccanica statistica e quindi capire questa cosa magari di matematica a cosa serve a quale risvoltia dopo che ho fatto il quadro generale e qui ti accorgi se hai fatto bene o se hai usato la linearizzazione quindi sai dire bene quali saranno gli scopi della tua lezione cominci partendo e io proprio una volta che ho letto il paragrafo è come se sto facendo una lezione ecco perché poi molte volte anche i miei genitori volevo far sentire loro qualche lezione e allora le dissero perché non apri un canale youtube però no finisce qui io faccio questa piccola lezione e poi sulla mia piccola lezione scrivo degli appunti cioè io voglio ecco perché dico non leggo come un romanzo perché molte volte può capitare se leggo come un romanzo che le capisco mi entrano in testa però dopo un po' me le scordo se le leggo come romanzo ecco perché se lo scrivo se scrivo dopo la lezioncina che mi sono fatto da solo me lo sento me lo sento più mio e ovviamente può capitare che ti sei scordato qualcosa e vai come punto di riferimento hai quello molte volte come domanda lo scritto dici sì lo scritto lo trovo veramente molto utile scrivere anche le equazioni e una cosa interessantissima è che io mi voglio mettere la prova cioè ho fatto degli esercizi ho fatto degli esercizi su questa cosa che si chiama principio variazionale poi arriva il momento dell'equazione di campo di Einstein e io parto da uno spazio piatto quello che si vuole fare di solito è perturbare questo spazio cioè renderlo curvo allora visto e si usa dei principi chiamati principi variazionali visto che io questi principi li ho già visti con gli esercizi provo a farlo da solo provo ad anticipare il libro e se ce la faccio meglio se non ce la faccio vabbè ma ci ho provato me lo guardo dopo Feynman era un tipo testardo che voleva farsi tutto da solo e si metteva lì per forza se molte volte non hai trovato il risultato vai a vedere un piccolo pezzo del libro e allora parti da quel pezzo prendi un altro pezzo e con tanto allenamento arriverai a un punto in cui anticiperai sempre magari il libro aspetta bellissimo quello che questo credo che quello che dice Claudio il talento comunque non è trascurabile il talento che tu hai mostrato già adesso spiegandoci come si è espresso il tuo talento nell'adozione di un metodo di studio che c'è gente che ci ha messo trent'anni a farlo simile ma non uguale ovviamente se lo volessimo riassumere mentre Angel scrive una cosa che io non conosco perché dice quello dello schema mentale è come riordinare una schivania certo ricorda un po' la tecnica delle images agent però nelle situazioni io no sinceramente quindi illuminami allora mi pare si riferisca a mi pare come se ora mi spieghi quello che raccontavi prima forse il fatto delle immagini anche dei disegni mentali come dei piccoli frames che ti escono in un certo senso tu vedi proprio nella tua testa quindi credo sia una successione di tanti frames ecco per esempio il caso che ora ho detto dello spazio è molto importante capire perché la fisica è fatta io sono ovviamente io parlo per esperienza personale però c'è gente magari a me piacciono o non piacciono magari i testi delle olimpiadi di matematica ma c'è gente a cui invece piace mettersi in gioco e fare quelli testi c'è gente in cui invece piace le applicazioni io parlo per esperienza personale e a me piacciono molto le equazioni proprio vederle ecco c'è gente in cui invece piace vedere il senso fisico e per una persona che sta per esempio all'università di fisica è molto importante quello cioè nel senso io ho questa azione che si chiama azione questa cosa qui e quando la vedo però dico fisicamente che cosa mi sta cosa mi vuole dire questa cosa e allora parto tutto con questa cosa come ho detto prima l'azione è una piccola equazione che mi descrive il moto del corpo da un punto A partendo da un punto A a un punto B oppure come faccio a ricavarmi l'equazione di campo di Einstein matematicamente mi è caro ma fisicamente cosa sto facendo e quindi tramite i disegnini mentali parto dallo spazio poi lo perturbo questo spazio e cose così o magari in matematica e in fisica esistono cose che si chiamano operatori di creazione operatori di distruzione che sono operatori che matematicamente mi comportano una certa cosa fisicamente significa quasi come se io sto creando una particella e la sto distruggendo in un determinato punto dello spazio e molte volte queste sono cose anche interessanti da vedere bisogna capire che la fisica non è gli esercizi sono quello gli esercizi ti fanno mettere in pratica la teoria che hai studiato ma la fisica non è solamente mettere in pratica le cose che hai studiato quelle cose sì molti le fanno ma la fisica molte volte il problem solving è la cosa più bella secondo me il fatto che l'idea alla base anche Einstein cioè Einstein aveva pensato alla sua teoria vedendo un ragnetto su un disco che gira quelli per la musica o magari ha un uomo sul tetto e penso ma chissà se il peso dell'uomo in caduta libera è lo stesso di quando sta scusate di quando sta sul tetto da questi pensieri così non è partito vedendo un'equazione Einstein Einstein è partito vedendo il mondo certo vedendo il mondo circostante io sapevo anche che si era immaginato a cavallo di un orologio nello spazio e non il tempo per gli sperimenti metalli e credo sia molto simile alla cosa che ha detto prima un delle image di gente appunto no l'ha detto Angelbox quello che vediamo quello che dice Claudio adesso è il miglioramento poi avviene però da un punto di partenza occhio che è vero che uno può migliorare per aumentare la propria conoscenza ma a noi Gabriele sta dicendo una cosa bellissima che il mio metodo è questo cioè lo voglio riassumere mano a mano perché per me è veramente bellissimo adesso ti dico anche perché c'è una persona che l'ha scritto Emiliano che ha scritto ciò che ricorda un metodo a me familiare perché molto di quello che hai detto è contenuto all'interno dei metodi Memovia io mentre parlavi ero come se mi si aprisse il cuore veramente a sentirti senza ovviamente quello che tu fai è spettacolare lo fai completamente da solo e ho imparato quasi da solo come hai detto prima che tua mamma ti ha aiutato molto in sviluppare questo metodo infatti i quadernini degli appunti quelli che mi scrivo perché lei mi faceva scrivere quaderni per le regole di grammatica di matematica e questa cosa il fatto che io ho bisogno sia di spiegare perché poi lo spiegavo a mia madre quello che leggevo e sia di scrivere quindi lo devo tutte e due quindi leggi a piccoli pezzi l'argomento che ti trovi davanti cioè non vai avanti a leggerti il blocco di testo perché ovvio che se uno va avanti mamma mia quanta roba che c'è qua dentro non riesce legge a piccoli pezzi quel momento dici aspetta ma qua mi sta dicendo qualcosa te la spieghi la tu hai detto la metti in linea la metti in ordine cioè quindi questo poi questo poi quindi questo poi quindi questo quindi c'è una sequenza logica anche in quello che dici e a quel punto dopo che hai messo dentro cioè che hai tenuto dentro scrivi scrivi tu dicevi sulla lavagna oppure sui tuoi schemi o tutte e due cioè spieghi come se fosse una lezione alla lavagna giusto? di solito mi scrivo lo schema alla lavagna anche sì sì ah è tutto fatto alla lavagna non su carta non necessariamente su carta no la carta poi quando trascrivo no no sulla lavagna sulla lavagna perché io mi registravo oppure sì sì ok e qua una domanda che è venuta fuori da Sandro che dice ma non è troppo lungo esatto infatti prima stavamo parlando mi pare mi interessa questa domanda stavamo parlando del metodo di Feynman no prima il metodo di Feynman è molto simile al mio effettivamente il metodo di Feynman è molto efficace infatti aiuta molto però effettivamente ci vuole tanto ecco io molti io credo che all'inizio bisogna bisogna faticare tanto come diceva prima Claudio mi pare bisogna faticare l'impegno bisogna sudare e questo per me all'inizio è stato difficile perché io ho cominciato all'elementari e all'elementari c'erano molti più compiti delle medie e quindi mi era molto difficile io ho finito le lezioni i compiti il pomeriggio alle 8 mi mettevo e studiavo fisica e quindi credo qui ci vuole tanta passione e tanto amore ecco molta molta perché alle 8 ero già stanco però mi mettevo infatti molte volte molti pensano magari ti stanchi ti stressi invece no è proprio come magari per per chi piace andare in bicicletta dopo una giornata stancante anche se ti sei stancato però ti piace andare in bicicletta perché senti l'aria stai all'aria aperta e così io con la fisica in un certo senso e quindi all'inizio è molto impognitivo però molte tecniche che ho spiegato poi dopo se ti metti e lo applichi sempre diventano quasi è come se le fai mentalmente anche le lezioncine è come se le fai mentalmente magari gli schemi li crei mentalmente quando vai avanti e assorbi il tuo metodo lo fai diventare proprio tuo non è più il metodo di Feynman ma è il metodo mio è il metodo di Giovanni è il metodo di Pinco Pallino e non è più non è come diceva Claudio un ammazzarsi di esercizi ma più per per molto tempo che suppongo tu abbia già risposto se ti va di rispondere ma non è solo è all'inizio si bisogna assolutamente poi ti abitui agli esercizi ti sfondi sempre degli esercizi ogni argomento ma dico alcuni magari li saprai fare molto più velocemente o appunto alcuni passaggi del mio metodo di studio gli schemi mentali soprattutto diventano schemi mentali disegnini non c'è bisogno che li disegni sul quaderno o sulla lavagna ma li faccio io da solo sulla testa e questo nella testa e quindi ma senti e tu sei partito quindi tu suggerisci come dice Danilo di partire dalla matematica poi passare alla fisica fare questa cosa graduale quindi questa gradualità nella a me è successo che all'inizio sono partito dalla fisica e ho sbagliato perché partì da dei libri divulgativi però poi finì su dei libri tosti come il Landau e notai la matematica quando cominciai a studiare matematica però dopo tre anni dopo due anni ho cominciato a otto anni a dieci anni ho cominciato a studiare fisica poi alla fine e in maniera perché la matematica mi piaceva un sacco ero arrivato fino ad analisi complessa analisi tre diciamo e mi ero scordato della fisica perché mi piaceva tanto la matematica infatti ancora oggi nella fisica come dicevo prima io credo che sia importante vedere il senso fisico cosa sto facendo poi ognuno c'è la cosa che ti piace a te piace metterti in gioco facendo le olimpiadi di matematica a te piace il mondo della ricerca a te piace costruire macchine su alcune teorie particolari fisiche a me piace vedere proprio la matematica di alcune teorie fisiche non tanto il senso fisico ma proprio la matematica e quindi questa gradualità avviene in tutto avviene nel matematica e poi fisica anche se tu hai fatto il contrario nel divulgativo e poi specialistico nell'argomento stesso pezzettino poi pezzettino poi pezzettino più complesso poi pezzettino più complesso e tutto questo ti porta leggere mentalizzarlo spiegarlo in testa vederti le cose in testa guardate lo voglio sottolineare di nuovo questa cosa dell'immaginare degli usi degli schemi mentali e poi metterli come dire su una lavagna su un foglio su carta infatti vedi Matteo proprio in quel momento ha scritto riassumere schematizzare in forma scritta ce l'hai già detto non necessariamente in forma scritta la priorità è mentale poi scritto quando spieghi sì sì e senti un'altra un'altra persona è ma come fai a non dimenticartele però cioè come fai a tenerle dentro poi allora come ho detto prima lo scrivere è molto importante poi gli esercizi cioè una volta che hai fatto la teoria devi fare molti esercizi e poi in matematica e in fisica è molto sono molto appunto c'è faccio il primo scalino e poi dopo il primo scalino c'è un secondo scalino e così via per esempio l'analisi matematica 1 ci sono dei teoremi come il teorema di Weierstrass che devo ricordare per forza per fare fisica per fare analisi 2 se non ricordo analisi 1 analisi 2 non la posso fare e quindi e quindi appunto la fisica come molte volte sentiamo brutte notizie di ragazzi che fanno sfide su internet fino a molte volte alcuni si sono addirittura uccisi purtroppo ecco la fisica è mettersi in gioco perché non mettersi in gioco non sfidarsi in queste cose invece di altre cose sfidarsi mettersi in gioco devi mettere in gioco per non scordarti perché appena hai finito analisi 1 c'è analisi 2 che ti aspetta è fisica 1 e non puoi scordarti analisi 1 quindi ecco è una prova tu dici non me lo scordo perché mi serve per dopo sì nei piccoli passi che dice Claudio non me lo scordo perché mi serve per dopo anche se c'è stata una domanda che è interessante lo stesso ma se è grosso l'argomento come fai? e hai poco tempo ecco e hai poco tempo e diciamo lo distribuisco l'argomento allora diciamo ci sono nel mondo soprattutto della fisica ci sono tanti ambiti che poi non andrai molte volte più questo avviene soprattutto all'università cioè all'università per esempio fai nella triennale analisi 1 analisi 2 fisica 1 fisica 2 meccanica quantistica e poi alla magistrale scegli di diventare fisico medico e non rivedrai mai più meccanica quantistica farai biologia aggiungerai biologia cose del genere e quindi molte cose non ti serviranno più e le quando studi da autodidatta puoi scegliere il tuo percorso perché se io per esempio voglio studiare teoria delle stringhe non studio per esempio fisica dello stato solido non studio fisica della materia condensata anche se per cultura personale vuoi essere interessante quanto volete ovviamente assolutamente e io però se hai poco tempo lo distribuisci ecco e poi ci vorrà molto tempo però non è importante quanto tempo ci vuole l'importante è che ci arrivi all'obiettivo molto bene guarda questa cosa che hai detto è meravigliosa cioè quando io ho letto quella domanda che è una domanda che dice se ho capito hai poco tempo come fai a studiare hai poco tempo significa c'ho l'esame che arriva non dimentichiamo Gabriele ci sta dicendo una cosa importante che nel mi è partito il fuoco dell'interesse per la fisica per quello che hai iniziato a studiare per conto mio a quel punto ho iniziato una serie di piccoli passi che mi portano a capire le cose ma Sandro suggerisce la cosa importante è giocare con le motivazioni no? con la motivazione della persona grazie perché sennò do vai no? quello che però non odiamo e che qua dice ma se c'hai poco tempo che significa sbrigati che c'è l'esame ma forse con la matematica e la fisica questo sbrigati anche perché non finisci mai di studiare un argomento esatto questa me l'ha insegnato un ragazzo che sta in posto dottorato in Belgio grandissima grandissima persona non finisci mai di studiare un argomento in fisica ho detto ho finito di studiare l'analisi perché poi ci sono le persone ovviamente finisci di dare quell'esame finisci di studiare quella piccola cosa che sta in cui per superare l'esame però non finisci mai soprattutto gli argomenti più borderline teoria quantistica dei campi relatività generale ho finito di studiare relatività generale ovviamente c'è il discorso degli esami che devi superare appunto e questa è una cosa guarda Emiliano ha scritto una cosa fare fisica senza una buona base di matematica come scalare una montagna senza corte io ne so qualcosa infatti anche io perché io cominciai così però poi mi accorso effettivamente stavo cadendo stavo per morire e allora ho cominciato a studiare matematica come ho detto prima appunto questa è una cosa che succede a tanti studenti che devono approcciare un esame qualunque e non hanno delle basi precedenti ben costruite e quindi si incasinano e ci hanno le fregole di dare st'esame oddio arriva l'esame sì ho capito ma devi andare indietro a vederti le basi se no non riesci ad andare avanti appunto come vorrei citare come diceva il grande Montalcini per analizzare un problema devi andare alle radici molte volte ci sono tanti detti anche siciliani che appunto dicono più ti perdi nel ragionamento più stai non stai concludendo nulla in un certo senso deve essere la linearizzazione e poi anche devi riandare alle radici molte volte non crearti altri problemi sul problema base sul problema base diciamo andare indietro prima cosa ho fatto prima del problema base quando crei problemi su altri problemi come se stai andando oltre il problema base oltre il problema base qua c'è anche una domanda che riguarda proprio ma tu hai già risposto si sentiva già nella risposta cioè Angelbox dice si ma come li memorizzi odio questa parola li memorizzi i concetti teorici dove è difficile creare immagini ma perché forse non è una questione di memorizzare e non è una questione di creare immagini viceversa Gabriele ci dice crea immagini esatto assolutamente per esempio ci sono tanti argomenti astratti non so varietà differenziabili appena senti parlare di varietà differenziabili che cos'è e poi fai l'esercizio e vedi una varietà differenziabile per esempio è una sfera una sfera e quindi capisci ah allora era una sfera non solo poi ci sono tantissimi altri esempi un nastro di meobius e così via per dire appunto che poi in un certo senso le immagini ti vengono molte volte anche naturali le capisci grazie ti vengono naturali e le capisci anche grazie agli esercizi ecco gli esercizi non servono a farti capire se hai capito alcune volte sì ma soprattutto per concretizzare in un certo senso quindi non è una una forzatura non è che io memorizzo oppure creo immagini è io capisco e quindi è una conseguenza naturale esatto le immagini diciamole così arrivano da sé gli esempi arrivano da sé la comprensione profonda quella che in memoria si chiama elaborazione profonda arriva da sé e a quel punto poi si apre la strada verso il collegamento cioè il legame tra una cosa e l'altra la dinamica quella che in memoria si chiama dinamica cioè il collegamento tra le informazioni tra i concetti tra le cose del mondo tra le cose che ho studiato che crea una rete interconnessa di cose nella testa e lì diventa la vera competenza questa cosa è meravigliosa Gabriele noto un cervello così grande in un corpo così giovane affascinante scelto un Cooper deno altri molto carino a questo punto Gabriele quindi detto il discorso metodo di studio che è molto chiaro quello che ci hai detto vorrei aggiungerci un'altra cosa come avevamo promesso che io mi innamoro di una cosa bellissima ok fantastico ci sono persone che non sanno cosa fare nella vita manco a 30 40 50 mi viene da aggiungere qualcuno ti chiede sì ma immaginiamo che io ci ho avuto un rapportaccio no pessimo rapporto con la materia col professore con quello che te vuoi come facciamo Gabriele da cosa partiamo quel discorso del blocco della paura come lo scavalliamo allora io credo molte volte se molte volte può essere veramente difficile perché è proprio un blocco come il blocco dello scrittore e molte volte ti peggiori tu stesso la situazione magari la situazione è molto più semplice di quanto pensi cioè le paure le paure noi pensiamo noi abbiamo paura di una cosa perché pensiamo che sia reale e più abbiamo paura più ci fissiamo più la facciamo diventare realmente realmente reale e quindi molte volte è veramente tosto questo blocco e quindi credo immergersi cioè non hai questa paura fare matematica subito cioè sconfiggere la paura hai paura del lupo accarezza il lupo e allora appunto immergersi nella matematica e avevo letto anche una domanda dei testi un libro che a me ha cambiato molto e ho cominciato dal quale ho cominciato a studiare matematica se posso prenderlo un attimino lo tengo qui tanto ci fai vedere subito qualcuno ha proprio scritto con quali libri la matematica e con quali libri la fisica questo qui la matematica ed è un libro abbastanza grande io l'ho letto e qui parte dalle frazioni e arriva fino agli integrali cioè ovviamente non posso considerarlo un libro in cui posso studiare tutte queste cose come se lo stessi studiando in maniera rigorosa però è un inizio per farti capire già alcuni concetti del liceo in maniera anche abbastanza approfondita però un po' breve cioè approfondita diciamo ma non ci sono molti esercizi ecco perché non non lo considero un buon libro per studiare in maniera rigorosa però è un buon libro per cominciare e ti introduce in maniera e ti introduce in una maniera molto come posso dire lineare appunto la linearizzazione di prima perché qualcuno ha detto hai parlato più volte di linearizzazione me lo spieghi meglio perché credo che sia io credo sia una cosa che si evince molto da quando spieghi cioè nel senso Feynman diceva hai capito veramente un concetto quando lo sai spiegare a un bambino di 5 anni il bambino di 5 anni spieghi l'integrale a un bambino che non sa cos'è una funzione come farlo ecco è lì che se tu lo sai ridurre e si può fare lo puoi ridurre a un livello così semplice allora quello significa che hai attuato veramente in maniera efficace la linearizzazione cioè hai ci sono quando leggi su libri di testo magari ci sono un sacco di filtri ci sono tanti ostacoli che devi superare per arrivare ecco arrivare al nocciolo della questione ecco la linearizzazione è togliere tutti quegli ostacoli prendere il nocciolo e coinvolgere tutti gli altri guardate ho trovato il nocciolo della questione chiaro quindi la linearizzazione quello che chiedeva prima Claudio che tra l'altro ho detto sto iniziando a leggerlo adesso quel libro non è mai troppo tardi la linearizzazione è mettere in ordine e trovare la sequenza che è una cosa che succede perché se io ma butto là la cosa che ho appena letto ed è difficilissima ha voglia provare a spiegarla a qualcuno che non ci capisce niente anche non un bambino di 5 anni un collega che non ha ancora fatto quell'esame se io gli ha butto là quello dice ma che sai a dire ma io non te seguo più quindi linearizzazione probabilmente significa anche partire dalle basi e per quello che ti chiedevano la matematica perché ma prima matematica prima fisica quali libri perché se vede che ci vuole questa sequenza deve essere molto graduale mi pare di capire interessante anche qualcuno ti ha chiesto se reputi di essere super dotato io sinceramente ho l'impressione però ti vedo geniale proprio nel modo di parlare tu come ti reputi? allora da un punto di vista scientifico non si futile niente perché non è mai ci sono dei test che però non ho mai avuto l'occasione non so neanche se sono interessato a farlo ma anche perché molte volte io ho conosciuto un amico che disse queste molte cose quando uno viene a sapere che magari è basso quello è ancora più un blocco peggiori la situazione e chi invece magari viene a sapere che è molto alto se ne vante in una maniera incredibile io ho il quotiente intellettivo più alto di Einstein quindi so fare più di lui appunto l'un per cento di talento e uno può essere intelligente quanto vuole però se non applica la sua intelligenza e come non è niente insomma sa nuotare però non sta in mare e quindi non si fa niente esatto bellissimo da lui lo dice ad mai ora grazie Gabriele quello che ho letto due cose uno diceva riguardava gli obli gli obli sì ciao gli obli gli obbi cioè adesso non lo ritrovo cioè diceva ma tu quando lo trovi il tempo eccolo Sergio ma quando lo trovi il tempo per dedicare a te stesso ai tuoi hobby e soprattutto cosa vuoi fare da grande allora parto non so tutte e due se lo sai si sono collegati no ma tu durante la tua giornata fai anche altro e se sì questo altro sarà parte della tua vita futura o fai fisico per tutta la vita è solo quello allora io mi piace come notate molte citazioni sia come diceva prima Sandro magari bibliche anche gli altri grandi scienziati ecco perché ci tengo molto alle biografie loro Landau che abbiamo già citato prima per esempio lui aveva un suo divano dove si sedeva e si metteva a scrivere ecco io molte volte metto insieme tutti i miei obbi nel senso in quale senso per esempio mi piace molto la musica classica io studio ascoltando la musica ma non che mi metto e analizzo la musica cioè io studio come sottofondo devo avere la musica classica per esempio e diciamo io non sono il tipo che ha come ho detto prima abituandomi al mio metodo mi sono molto velocizzato con questo metodo di studio perché c'è appunto l'abitudine ormai e quindi a me piace io un pochino quasi sempre ci penso alle ragioni fisiche infatti per esempio sto mangiando e scrivo sul fazzoletto una cosa che mi è venuta dopo la applico o magari momenti di riflessione appunti tutto sì appunto tutto mi piace come un po' faceva della Croix o magari Leonardo da Vinci si portavano un quadernino appresso della Croix in giro per l'Africa ecco quando è invece da Vinci appunto anche a Milano e scrivevano quello che gli passava per la testa sì e quindi e poi ovviamente c'è il momento di studio rigoroso però il momento di studio rigoroso non è sempre come il momento di pensiero di riflessione mi siedo e scrivo ovviamente con sottofondo la musica per esempio poi mi piacciono ecco mi piacciono anche altri hobby assolutamente per esempio suono anche oltre ad ascoltare mi piace anche suonare il pianoforte per esempio il pianoforte poi in questo periodo di chiusura diciamo compagnia con gli amici videochiamate e quindi molto bello anche quindi riesci a fare anche altre cose assolutamente ma perché come ho detto io penso un po' sempre però il momento di studio rigoroso non è sempre il momento di giornata certo infatti Sergio dice vabbè al di là vedi che Sergio dice la musica classica si dice favorisca lo studio sì ci sono degli studi a proposito non solo la musica classica Sandro dice i test sui cui sono una cosa da prendere con le vince perché uno potrebbe bloccarsi poi si ritrova a non fare perché magari gli è stato detto che il proprio quotiente teletubo è basso quelle cose sono solamente importante quando magari ha qualche problema di quando è morto è appunto è come quando io ho un quotiente normodotato sono normodotato o plusdotato è come andare a dire a un pesce nel mare tu sai nuotare sai nuotare certo è ovvio che sai nuotare certo il punto di massima paura è anche il punto in cui la paura finisce è bellissimo perché mi suona rispetto a quello che tu dicevi prima del quanto uno si blocca di fronte a queste cose devi analizzare esatto devi analizzare la paura poi quella è una frase bellissima quella molto sì la paura finì quando poi è il punto è lo stesso punto sì sì è anche ed è bello anche mentre tu parlavi dei tuoi hobby che una persona ha scritto Angelbox ha scritto tu entri secondo lui in modalità full immersion in tutto ciò che tu incuriosisce quindi la domanda successiva di Sergio è stata sì ma scusa ok la full immersion ok che fai tutto ma quando è fai tutte queste cose quando studi e tu hai detto io faccio tutto un po' durante la giornata mentre mangio mi scrivo la cosa mentre ascolto la musica penso poi appunto poi studio poi faccio altro qualcuno ha chiesto ma Sergio sempre dice dormi poco quando hai fatto queste cose non dormi invece secondo me tu dormi come molto pure molto pure oggi mi sono svegliato anche relativamente un po' tardi quindi diciamo allora grazie alla didattica a distanza sono riuscito a distribuire il mio tempo in maniera più efficace effettivamente perché la mattina studio principalmente per la scuola nelle ore asincrone abbiamo queste ore asincrone dove i professori o ci dicono di fare questa cosa o ci mandano un video di youtube o loro che si filmano allora io in quelle ore asincrone faccio i compiti che ci hanno segnato guardo le loro lezioni sono relativamente non sono tantissime però sono secondo me abbastanza per studiare e poi il pomeriggio mi dedico principalmente allo studio molte volte anche la mattina per esempio il sabato e la domenica anche molte volte la mattina studio anche le cose che mi piacciono e poi il pomeriggio quando c'è scuola la mattina invece studio queste cose parto dopo pranzo comincio a studiare queste cose poi ascolto la musica suono e quindi vai in flow dice Sergio esatto sì quindi studio questo studio questo poi suono il pianoforte principalmente queste due cose suono e studio il pomeriggio e poi la sera quello che faccio è ceno e molte volte mi porto a presto sempre questo quadernino e mi scrivo magari leggo principalmente la sera leggo vado a letto durante diciamo il lockdown sto andando relativamente tardi e poi mi sveglio per la scuola mi sveglio presto invece in giorni mi riposo molto mi piace quindi anche la sera studi vedi Angelbox scrive ma anche la sera la notte riesci meglio 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 della sera meglio e poi dormi sì lui dice io dieci ore minimo bevi tanto qualcuno dice sì di solito bevo non tantissimo devo ridere ma fa bene bere quindi devo bere Sergio scrive sicuramente poca playstation e poca tv eh non no no non ho la playstation non ho il piacere grazie guarda che bella questa domanda sempre di Sergio dato il tuo livello come ti rapporti con i compiti scolastici questo sono curioso allora diciamo eh sono li faccio ovviamente devo devo farli e e molte volte anche trovo interesse in alcuni non tanto di matematica perché effettivamente però credo sia sempre interessante mettersi alla prova principalmente con però con gli altri compiti molte volte ci sono temi da scrivere ecco a me piace molto anche scrivere temi e poesie quindi quello assolutamente quindi non devo essere sincero mi chiedo quale sia la fatica che fanno i tuoi i tuoi insegnanti perché devi essere per loro un grande elemento di messa in discussione per me lo sei stato dall'inizio pensa un po' e io non studio non insegno queste cose immagino questi voracci che dicono ma che io dico a questo sta pure attento e se sbaglio è un disastro mi corregge pure cioè voglio dire guarda è d'esse tosta per loro eh te l'hanno già detto alcune volte sì però devo essere devo ritenermi fortunato perché ho trovato un bel ambiente alle medie alle medie sì sì me lo hanno detto anche magari per scherzare un po' mi tengono molto a cuore mi tengono molto a cuore la professoressa che fa allora ragazzi fate questo questo è quest'altro tu cinque minuti hai già fatto vabbè professore ecco l'ho fatto vado a casa arrivederci senti qua c'è scritto anche Matteo dice ma ti interessi anche di materie umanistiche io sono un po' l'antitesi diciamo perché sono credente anche e mi piacciono molto le materie umanistiche per esempio mi piace infatti molto i classici mi piace un sacco l'inferno della divina commedia l'ho letto ora mi piacerebbe continuare col purgatorio mi piace mi piace promessi sposi le neide soprattutto quella perché ho letto più passi delle neide e quindi sì assolutamente poi anche mi piace come dicevo prima scrivere poesie infatti il mio poeta preferito Leopardi anche perché molte volte si notano c'erano molti fisici che scrivevano poesie tipo Erwin Schrödinger oppure questa cosa questa immagine di Heisenberg che era questo fisico che si isolò dal mondo in un certo senso andò su quest'isola che si chiamava Ergoland e una sera mentre stava tramontando il sole si mise su questa roccia e cominciò con questo quadernino che ritorna sempre a scrivere appunti e lì fondò le basi creò i postulati della meccanica quantistica guardando il sole che tramontava questa cosa mi ricorda tanto non so Leopardi o magari per Leopardi l'ostacolo era l'ermocolle per Heisenberg invece è il tutto perché lui voleva andare a scoprire l'infinitamente piccolo e quindi mi piace molto anche la filosofia diciamo la filosofia mi interessa studiare alcuni ragionamenti che si fanno in filosofia anche se magari oggettivamente parlando molti approcci della metafisica nel mondo della scienza possono essere sbagliati però è interessante andare a vedere come si ragiona anche in filosofia e aiuta molto anche molte volte nel ragionamento scientifico come dicevamo prima che abbiamo paura di fare matematica quando in realtà la logica che si usa in matematica la applichiamo ogni giorno come posso dire quelle intuizioni che abbiamo quando dici ah quella persona è intelligente è riuscita a risolvere questa cosa avevo questo problema ha trovato una soluzione efficace di ottimare diciamo li puoi applicare anche in matematica sono cose collegate poi io non so Angelbox chiede anche il diritto non lo so ti piace anche il diritto il diritto non l'ho mai visto ancora non l'abbiamo visto quello che vedi le tematiche umanistiche ti aiutano a comprendere meglio comprendere meglio della nostra esistenza e quello che diceva anche Sergio è brutto sapere che ci sono gli schieramenti la divisione fra umanisti e scienziati quando in realtà uno uno potrebbe avere la filosofia cioè l'amore del sapere che è anche fisica è anche matematica quindi uno può essere un filosofo della fisica sì esistono assolutamente è storico della fisica come stavamo parlando quindi umanistico e scientifico non sono così no assolutamente ma come dicevo anche con la religione cioè studiano due cose differenti studiano due cose differenti che non vanno assolutamente in contrasto vedi domandone guarda qua la stima sta e non li sto mandando tutti perché sono troppi però quello che ti chiedono in tanti è primo di non andartene non essere un altro cervello in fuga perché hai già pensato resta in Italia cioè ti stanno dicendo resta qui non te ne andare e la seconda cosa che noto e quindi se ti va di rispondere a questo non so se tu hai già pensato di andartene all'estero però la cosa che ti chiedono in tanti è scrivi scriverai hai intenzione di scriverai di scrivere un libro di fare un manoscritto di scrivere qualcosa di la laurea che prenderai se ti approfondirai le neuroscienze insomma che cosa questa cosa di oppure si approfondisce c'è anche la psicologia che è molto legata cioè tu continui a approfondire in tante materie perché hai già trovato il tuo o perché dici guarda tanto a me mi viene facile studia tutto quindi sai che ti dico io provo poi qualcosa ci butterò dentro niente di strano tu diventi un umanista che scriva dei libri non lo so qual è il tuo come ti vedi tu beh speriamo e diciamo il mio più grande sogno è nel futuro lavorare in questo campo della teoria delle stringhe diciamo però ecco a me piacerebbe se ti vuole tanto diventare anche un un insegnante un professore universitario diciamo mi piacerebbe veramente un sacco infatti Einstein ha messo quella cosa dell'uomo che scrive un sacco di fazioni sulla lavagna diciamo è fantastico bellissimo però a me a me piace un sacco scrivere come ho detto prima e non escludo assolutamente di non scrivere sia un romanzo sia un romanzo perché mi piace molto inventare o anche un testo principalmente scientifico e quello mi piacerebbe assolutamente tantissimo farlo anche un romanzo ma soprattutto un testo scientifico mi piacerebbe tanto poi continuare anche i testi in italiano perché purtroppo e questa è una cosa molto brutta prima stavate dicendo dei cervelli in fuga è una cosa bruttissima che non c'è molto materiale in italiano di alcuni argomenti borderline di fisica delle particelle teoria delle stringhe cioè io se volete chiedermi qualche consiglio per libri di teoria quantistica dei campi io non vi so dire di libri in italiano e questa è una cosa molto brutta ma perché perché tutti scappano effettivamente e la ricerca in Italia su questi campi è proprio nulla teoria quantistica dei campi c'è pochissima gente solamente al nord che poi si collega alla Francia e alla Germania che studia queste cose quindi tutti i libri sono in inglese sono e anche più affidabili alcuni anche sono molto meglio di quelli italiani e ti piacerebbe farli in italiano cioè l'idea è quello di farli tu in italiano infatti dice Sergio cosa ne pensi delle università italiane comparate a quelle americane dove evidentemente c'è una didattica ma anche molto diversa secondo me per ora sono meglio per esempio quelle estre per esempio Politecnico di Zurigo mi pare è molto buono anche per gli ingegneri perché lì per esempio ci sono ingegneri meccanici che fanno costruire al primo anno delle macchine dei prototipi per le macchine di Formula 1 addirittura ovviamente non che vanno a finire alla Formula 1 ma fanno avvicinare già queste cose cose che in Italia molte volte non lo si fa per questioni burocrati non lo so perché ma non si fa molte volte è bello che appunto la persona che vuole costruire in futuro una macchina che vuole entrare magari nel mondo della Formula 1 come vedi quelle grandissime persone che hanno costruito queste nuove macchine importantissime al Politecnico di Soligo fanno queste cose e poi fanno vedere i video in cui la gente hanno costruito questi piccoli prototipi applicano e questo quindi è molto meglio da questo punto di vista alcune università ci sono università molto buone in Italia la Sissa oppure la normale di Pisa che è una delle migliori in Europa quella addirittura però non tanto per materie di ingegneria non so neanche se le insegnano la normale più materie umanistiche scientifiche molto astratte fisica matematica letteratura filosofia molto interessante quindi l'applicazione è bellissima io spero che tu riuscirai a fare questa bellissima applicazione di tutte queste cose perché l'idea è anche che tu possa insegnarci qualcosa una cosa che ti chiedono è ma tu ti distrai beh sì succede assolutamente succede assolutamente magari qualche pomeriggio che avevo progettato di studiare avevo programmato di studiare e poi magari con gli amici una videochiamata cosa del genere può capitare assolutamente ovviamente non lasciarsi distrarre non farsi che le distrazioni diventino una dipendenza ovviamente ma neanche ovviamente il fatto che molte volte magari lo studio può sembrare una forzatura cioè non ti puoi distrarre invece no assolutamente non è così può benissimo esserci più che normale una distrazione ma non che diventi una dipendenza non è tanto da demonizzare certo ti chiedono anche se vuoi portare avanti gli studi del professor Hawking piuttosto che quello è quello è proprio quello è il campo diciamo che mi piacerebbe sì teoria delle stringhe che è una cosa che è venuta dopo però diciamo in generale gravità quantistica quindi assolutamente sì buchi neri cose del genere assolutamente quello è il campo è quello è il campo e tutto questo ti viene chiesto anche se ti interessa anche altri campi che sono invece più relativi all'informatica oppure se sì diciamo no l'informatica non l'ho ancora studiata però credo che ormai ai tempi d'oggi un fisico deve essere sia un bravo quasi madrelingua in un certo senso perché appunto stavamo parlando prima dei problemi della lingua dei testi delle lezioni online che sono quasi tutte in sono quasi tutte in inglese ormai in inglese e poi anche un bravo programmatorio un fisico molte volte per esempio c'è un canale su youtube Tribune One Brown che è un canale inglese e quei disegnini mentali fa questi disegni mentali per esempio spiega la serie di Fourier prende un'onda l'analizza e dietro quel video c'è un lavoro di un mese più infatti assolutamente perché lui usa dei programmi usa dei programmi dei codici dei linguaggi particolari per creare quei video e quindi assolutamente importante l'informatica non l'ho studiata però ho intenzione di bellissimo che tu abbia così tanto con ventaglio enorme di possibilità e qua mi è piaciuto molto mi è piaciuta una domanda molto carina che credo di sapere già risposta domanda subito aveva preso un'insufficienza non è una domanda stupida ma credo che non è successo non credo che sia mai successo quello che mi è piaciuto tanto intanto c'è una tua proposta una proposta di andare a lavorare a NASA che credo che potrebbe essere sia molto interessante sì è molto interessante molto interessante e adesso guarda che bella questa domanda che è cosa ne pensi degli algoritmi l'apprendimento io credo che questa possa essere la domanda di chiusura della nostra intervista che è credi che l'apprendimento possa essere visto come un algoritmo è una domanda molto complessa molto e devo formulare un algoritmo per rispondere facciamolo diciamo io credo sì ovviamente un algoritmo è tutto nella vita ogni cosa è una successione di alcuni elementi e il collegamento tra questi elementi sono delle deduzioni logiche quindi l'algoritmo è un po' tutto però come dicevo prima deve essere una cosa che deve venire naturale in un certo senso cioè non ti devi poi diciamo come posso dire distrarre così tanto è un algoritmo che devo seguire per forza è una cosa che molte volte ti deve venire naturale però credo che il metodo di studio è un algoritmo che però ti deve piacere ti devi trovare bene in questo algoritmo lo devi costruire perché perché non devi costruire in una maniera come lo si fa in matematica gli algoritmi è una cosa che deve essere piacevole anche per te qui ti devi trovare bene secondo me guarda che risposta che hai dato Gabriele che sì ci può essere anche l'algoritmo ma è una cosa che noi mi muovi diciamo ormai da anni che sì va bene avere le regole le strategie le tecniche le sequenze quello che volete puoi avere le migliori del mondo ma se poi non dici come adesso non so chi l'abbia scritto ho un sorrisone perché Iliana ha detto io ha detto a Lilli adoro questo ragazzo e Iliana ha risposto e Lilli ha detto suppongo sia Lilli ha detto io ho un sorrisone da quando è cominciata la diretta perché la verità è che al di là dei mille metodi delle mille teorie e pratiche tu ci stai insegnando oggi che è possibile vedere qualunque cosa con un in una visione diversa che ci trasforma quindi senza regole con enorme libertà leggerezza la leggerezza che tu trasmetti di quello che studi che è meravigliosa io di questo veramente più di ogni altra cosa voglio farti complimenti perché è bellissimo se puoi aggiungere qualcosa capire noi abbiamo visto siamo in live da un'ora e 25 minuti è una delle live più belle che abbiamo mai fatto devo essere sincero come dicevamo prima del fatto che il tempo quando passa velocemente qui è passato veramente velocemente è passato velocemente poi i commenti veramente non me lo aspettavo sì aspettati quelli che arrivano adesso durante i saluti che lo so già tanti inizieranno a farti i complimenti come giusto e come io rinnovo i miei complimenti Gabriele per averci dato questa struttura che vogliamo riassumere un secondo proprio veloce veloce vedi che iniziano un secondo veloce veloce che è stato l'impatto con lo studio quindi correggimi se sbaglio l'impatto con lo studio ok ci sarà qualcosa che ti ostacolerà nello studio di materie molto complesse hai bisogno di un supporto esterno perché da solo è capace che non ce la fai soprattutto se sei piccino che c'hai lo studio sui mattoni che non ti piacciono gli insegnanti che non ti aiutano magari un aiutino esterno i genitori hanno un ruolo fondamentale in quello poi a quel punto la persona si mette davanti al libro e dice aspetta lineare pezzettino pezzettino partendo dalle basi tu ci hai dato anche dei riferimenti ci hai detto il tuo metodo di studio qualcuno è entrato dopo ha detto che metodo di studio usi l'abbiamo riassunto poco fa lo riassumiamo adesso l'abbiamo detto poco fa che è pezzettino pezzettino ogni passaggio è come dire tiro sulla testa non lo guardo sul libro me lo metto in testa mi faccio le mie immagini e poi quando ce l'ho lo scrivo su una lavagna e lo spiego lo scrivo su un foglio e lo spiego e lì il mio cervello inizia a fare dei collegamenti e a svegliarsi e a dire aspetta sto capendo posso andare avanti a quel punto inizieranno anche altre difficoltà che saranno dio mio questo è troppo difficile oh mio dio che casino oh mio dio finito che è finito oh mio dio mi devo sbrigare per l'esame tutti questi sono enormi limiti mentali che a volte noi ci imponiamo e che tu ci hai detto magicamente come andare via da questi come risolverli infatti guardate che ovviamente ti fanno tanti complimenti tra poco anche io metterò qui sotto nei commenti dappertutto il link al tuo canale perché è bellissimo cioè pensate prima Gabriele per chi non ha sentito magari secondo adesso che Gabriele ci ha detto che questo canale è stato aperto perché lui si registrava mentre spiegava le cose quindi lì dentro c'è il segreto Gabriele quello che lui fa lo vediamo lì è già lì e tutti i nostri complimenti continua così spettacolare come l'hanno preso ai tuoi genitori che sei così geniale eh beh loro mi hanno io io credo che sia merito loro se sono veramente così geniale quindi ovviamente ho tu come dicevi tu c'è bisogno di un aiuto esterno e coloro sono il mio aiuto esterno è bellissimo quello che hai detto e ti facciamo tutti i complimenti Angelo che ci ha fatto degli enormi domandoni bellissimi Gabriele ti vogliamo nuovamente in live la cosa principale che ci ha insegnato oggi è che la genialità nasce dalla meraviglia per la natura dalla curiosità di sapere come funziona e perché grazie Gabriele sei meraviglioso più che alla NASA viva il CERN ti voglio ti fanno tutti i complimenti Gabriele io mando tutti i commenti i complimenti e ragazzi grazie a voi i complimenti che avete fatto sentire Gabriele a casa e avete dato la possibilità con le vostre domande e con il vostro ascolto con la vostra presenza di di svelare di lasciare Gabriele sbocciare raccontarci queste cose bellissime lunga vita e prosperità ti augurano di tutto e del tutto meritato complimenti Gabriele fantastico ci vuoi dire ancora qualcosa? beh volevo volevo continuare a dire che veramente non me lo aspettavo cioè così tanta così tanto come posso dire bene che mi volete quindi veramente grazie non me lo aspettavo guarda guarda che meraviglia è stato bellissimo io ringrazio Matteo ha scritto ho riduciato al primo tempo la partita del Cagliari per poter seguire quindi è una cosa che fa di solito e ne vale veramente la pena veramente qua c'è anche una persona che bellissima questa cosa Gabriele hai fatto l'effetto meraviglioso di staccare la gente dal calcio cioè rendite conto bravo grazie di tutto quello che ci hai dato io mi auguro sinceramente di poterti perché molti hanno hanno scritto no mi ringraziano non dovete ringraziare me dovete ringraziare scusate anzi di qua dovete ringraziare Gabriele per questa live che è stato così disponibile gentilissimo Alessandro dice ci sarà in live sul suo canale quindi continuate a conoscerlo sul suo canale ovviamente ci sarò anch'io io spero sinceramente Gabriele di poterti di poter parlare con te di nuovo perché credo che tu sia non mi piace l'idea del pozzo di conoscenza credo che tu sia un catalizzatore di enorme passione per le materie e che tu sia in grado guarda questo è forse più ancora di quello che che sai di te credo che tu sia in grado di catalizzare emozioni positive nei confronti dello studio renditi conto di cosa vuol dire questo non è solo che tu riesci a studiare ma tu riesci a dire alle persone non abbiate paura non abbiate paura delle materie non abbiate paura dello studio non abbiate paura di non essere in grado siete in grado certo io sono talentuoso e geniale eppure questo talento e questa genualità sono nati e cresciuti in un contesto di non paura bellissimo ed è forse questo di cui voglio ringraziarti di più una meraviglia Gabriele grazie grazie a te se ci vuoi dire qualcosa ci puoi chiudere con un aforismo tu hai detto che ti piacciono molto gli aforismi eh sì ti va ce l'hai uno che ti viene vediamo eh ora così così non proprio però vediamo pensa a questo rapporto che ci hai raccontato con lo studio e al modo in cui lo vivi tu e lascia di andare e pensa al primo che ti viene il primo e vediamo il tuo preferito non necessariamente il mio preferito ora è difficile mi vengono come diceva prima un po' più naturale diciamo però ora perché sono troppo emozionato diciamo davvero sei così emozionato credo che perché diciamo veramente non ti aspettavi sono abituato però non lo sono sono abituato è sempre è sempre una cosa non ti aspettavi questa risposta da da così tanti allora devo dirti una cosa che quando ho detto non abbiate paura a me a me colpì una volta molto un discorso di Giovanni Paolo II che disse questa cosa visto che tu sei molto credente credo anche praticante comunque tu hai detto di essere un po' un po' strano no? in contrasto che da un lato sei scienziato e dall'altro sei credente e e in questo vedi Sandro ne ha tirato un po' lino quanto più già si sa tanto più bisogna ancora imparare che torna molto a quello che hai detto tu e non abbiate paura è stato un monito bellissimo che che può attraversare credenti e non credenti non è tanto importante questo ma guarda quante volte noi verso lo studio abbiamo timore il timore reverenziale che avevo nei tuoi confronti all'inizio che si è dissolto a favore dell'ammirazione e dell'entusiasmo per quello che ci hai trasmesso parole bellissime veramente grazie Gabriele ci vediamo presto ti salutiamo assolutamente ti abbracciamo ti salutiamo tutti ragazzi salutiamo tutti Gabriele con i nostri più grandi complimenti ci vedremo qui molto presto seguite il canale di Gabriele su youtube perché come abbiamo detto è bellissimo Gabriele è anche un profilo instagram che ho taggato nelle storie negli ultimi giorni perché avevo piacere di farlo conoscere anche su instagram in realtà ma la cosa ecco infatti ecco nel 2000 è il discorso di Giovanni Paolo II ti salutiamo Gabriele non vediamo l'ora di vederti di nuovo in live qui e sul tuo canale e ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi oggi grazie a voi ragazzi grazie a tutti grazie per essere stati con noi per tutto un'ora e mezza meravigliosi tutti grazie ci vediamo qui molto presto ciao Gabriele grazie a tutti ciao ciao ciao